Il panorama della sicurezza è cambiato, ce ne siamo resi conto, abbiamo visto gli effetti di WannaCry, ci siamo resi conto che le nostre aziende sono vulnerabili e che abbiamo bisogno di cambiare il nostro approccio alla sicurezza. Sempre di più i nostri laboratori identificano minacce spesso non strettamente collegabili ad attacchi malware. I nuovi trend oggi ci dicono che minacce avanzate che prendono possesso delle macchine, dei clienti si muovono poi lateralmente per sferare attacchi sia ai dati che alle aziende stesse. Oggi Panda Security sta cercando di aiutare i clienti attraverso un modello di sicurezza che non si basa più sul concetto di signature, non si basa più sul concetto di blocco quello che conosco, ma si basa in realtà su bloccare quello che non conosciamo. Questo nuovo modello di sicurezza può essere implementato facilmente attraverso Adaptive Defense che Panda Security ha sviluppato in grado di andare a identificare tutto quello che oggi è sconosciuto e che sta cercando di attaccare i nostri sistemi. Panda Security oggi è l'unico vendor europeo, 100% cloud, in grado di fornire servizi di sicurezza. Abbiamo diverse tecnologie che vanno dalla produzione tradizionale degli endpoint, degli host, abbiamo tecnologie in grado di poter gestire i sistemi, quindi systems management, abbiamo tecnologie per l'email protection, abbiamo tecnologie oggi in grado di proteggere le minacce avanzate come il WannaCry. Dopo 4 anni di lavoro Panda Security ha rilasciato un nuovo modello di protezione che chiama Adaptive Defense, in grado di andare a classificare tutto quello che è in esecuzione oggi su ogni single host. Siamo in grado di verificare, di controllare l'esecuzione dei processi, siamo in grado di verificare se questi processi sono malevoli o se non lo sono, siamo in grado anche di verificare se questi processi hanno accesso a dei dati aziendali o se stanno comunicando i dati aziendali all'esterno dell'azienda. Una delle nostre caratteristiche è appunto il fatto di essere completamente vendor independent e quindi se i clienti oggi hanno scelto una protezione di sicurezza tradizionale del nostro competitor, noi forniamo quel livello addizionale in grado di proteggere il minacce come WannaCry. Siamo probabilmente l'unico vendor in grado di dire oggi che WannaCry non ha colpito neanche uno dei nostri clienti. Da sempre Panda Security ha investito nel canale, lo ha fatto non solo attraverso dei programmi e quindi attraverso un canale di vendita, ma anche attraverso degli strumenti. Panda Security ha rilasciato ormai qualche anno fa un tool chiamato Partner Center che è in grado di fornire ai partner la completa governance dei propri clienti, è in grado di poter gestire le licenze, è in grado di poter in totale autonomia gestire anche i rinnovi delle tecnologie che il cliente ha deciso di adottare. È uno strumento gratuito e è uno strumento che è appunto pensato per i nostri partner. Investendo nel canale, ritenendo per noi il canale fondamentale, abbiamo iniziato ormai l'anno scorso un programma di certificazione e di specializzazione, anch'esso gratuito, che permetta ai partner di meglio prepararsi contro appunto le minacce di cui parlavamo prima, quindi le minacce avanzate. Questi corsi sono ottenuti direttamente da noi, quindi da Panda Security, e permettono oggi ai partner di meglio comprendere le tecnologie, meglio comprendere le minacce e meglio aiutare i clienti nelle problematiche legate alla sicurezza quotidianamente.